La libertà del cuore, la libertà interiore, di cui la felicità in un certo senso è figlia, perché la felicità non è il primo gradino, la felicità è direi la meta da raggiungere e per raggiungere questa meta occorrono tanti passi, tanti gradini e tra questi vi è la libertà, la libertà che ci libera dai condizionamenti, la libertà che ci libera, ci fa essere saggi, prudenti, non solo dai condizionamenti familiari oppure dai condizionamenti degli amici, ma anche dai condizionamenti della cultura, tra virgolette, in cui viviamo, dai condizionamenti per esempio del consumismo, dai condizionamenti per esempio della visibilità a tutti i costi, la libertà che mi libera dai condizionamenti. Questo vuol dire anche che per essere felici, come ho detto qualche giorno fa, occorre diffidare. C'è una diffidenza sana. Io posso diffidare e devo diffidare in alcune situazioni, ma questo non vuol dire per esempio non amare il fratello o non amare la sorella di cui diffido, perché quella diffidenza mi porta ad avere, come dire, a creare quella giusta distanza che mi porta poi non solo ad essere libero dentro me stesso, ma anche ad essere libero da ogni condizionamento per fare il bene di quelle persone. Perché lo scopo della nostra vita non è solo quello, o meglio, io dico, non è affatto quello di essere felice io stesso, no. Lo scopo della nostra vita è rendere felice gli altri, perché rendendo felici gli altri io rendo felice me stesso. E la felicità vuol dire promuovere, aiutare l'altro, stimolare gli altri a crescere nel loro bene, a fare il bene degli altri. E molte volte la diffidenza è una sana diffidenza, è uno strumento pedagogico, è uno strumento, direi, di saggezza. E questa libertà mi viene appunto anche da saper essere dentro, libero. E che cosa ci porta alla libertà e alla felicità? Torniamo a Papa Francesco. Papa Francesco dice in un'altra omelia del 2015, dice che la felicità è la via della santità, è la via della santità, è la stessa via della felicità. Essere santi vuol dire essere felici. E' la via che ha percorso Gesù, anzi, è lui stesso questa via, precisa Papa Francesco, chi cammina con lui e passa attraverso di lui, entra nella vita, nella vita eterna. Farsi santi vuol dire camminare per essere felici. Se sono santo, sono felice. Diceva un sacerdote romano, o santi o falliti, o santi o infelici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!